qualche minuto prima delle 8 che vuol dire qualche minuto prima di mezzanotte in Italia verifiche sportive concluse, tutto a posto ovviamente l'organizzazione ha probabilmente calcolato male i tempi per cui le verifiche tecniche erano chiuse per oggi per cui tutto rimandato a domani un saluto a tutti e buon anno a tutti